Un ovetto rubato, un bambino goloso e il suo pentimento è la storia che sui social ha commosso e aperto una riflessione. Questa lettera di Agostino l'ha raccomandata dalla Svizzera, molto sorpreso perché aprendola c'erano dei soldi all'interno, dopo lettendo la busta che comunque era scritta in tedesco. Il mio fratello l'ha tradotta e diceva a questo ragazzo che si scusava per aver rubato durante la gita che aveva fatto poco tempo prima a San Marino un ovetto di cioccolato e ci chiedeva il perdono scusandosi con questi 10 euro. Colpisce il pentimento, il piccolo di nome Benjamin scrive in tedesco Non avevo i soldi e l'ho rubato, so di aver sbagliato e mi dispiace molto, poi aggiunge e fa commuovere, poiché voglio vivere in pace con lei e con Dio, allego 10 euro per farmi perdonare. In media mi hanno rubato un ovetto al giorno di cioccolato, quindi non era mai successo che qualcuno tornasse indietro scusandosi, quindi è più unico che è raro in questo periodo. La storia non finisce qui perché pentimento e perdono trasformano sempre anche gli errori più gravi e Danilo sta per rispondere a Benjamin. Gli manderò una nostra torta di San Marino che è tradizionale, ringraziandolo comunque del gesto e chiedendogli comunque di venire per il controllo di persone e stringergli la mano. Questo è il gesto minimo. Com'è la torta di San Marino? Molto buona, molto buona. La deve assaggiare anche lei. Com'è fatta? Sono delle cialde croccanti con una torta di cioccolato. Meglio dell'ovetto? Eh, sicuramente.